Eccomi di ritorno, siamo arrivati quasi alla fine della nostra giornata, perlomeno l'ultima tavola rotonda, ossia incentivare la search engine optimization del proprio punto vendita, ottimizzando i suoi contenuti e la sua popolarità, sarà animata da Nicola Mercatili, cofondatore di SamJuice. Salve a tutti, grazie per essere presenti qui alla Cinemateca e online, sono Nicola Mercatili, cofondatore di SamJuice.com, accompagniamo aziende a essere più visibili su Google perché poi possono apparire fra i primi risultati e definiamo con voi le parole chiave per il motore di ricerca. Abbiamo cominciato dal 1997, poi mi occupo anche di PrestaShop, da 2013 animo dei workshop nella zona di Montpellier, venite a trovarmi se siete di Montpellier, e mi occupo anche di PowerPress, sono ambassador di una soluzione marketing. Allora, adesso cominciamo dal titolo di ProPemoria e diciamo che si fa un grandire della necessità di essere visibili su Google. Perché su Google? Perché il 93% delle ricerche, per esempio, realizzate in Francia sui motori di ricerca sono fatte su Google. Quindi Google è il motore di ricerca più utilizzato, che ha una situazione di netta dominanza sul mercato. Quindi poi il 95% delle scelte si fanno sulla prima pagina dei risultati che appaiono su Google. Quindi se non comparite nella prima pagina dovete assolutamente trovare il modo di riuscirci. Questa è la SEO, Search Engine Optimization. Potremmo utilizzare l'immagine di un albero, la struttura del sito sono le radici, la terra su cui si fondano le basi. In questa conferenza non affronteremo la struttura tecnica del SEO. Voi siete su PrestaShop, che è già molto ben progettata per la performance e la Search Engine Optimization, la SEO. Voi siete su PrestaShop, quindi avete già un'ottima base. Poi in secondo luogo abbiamo i contenuti, ed è un po' quello che spunta fuori fra i risultati di Google. Però questi contenuti hanno bisogno di un suolo, di un terreno solido da un punto di vista qualitativo. Quindi struttura e contenuti si lavorano sul sito. Ottimizzazione abbiamo al di fuori del sito e abbiamo l'ottimizzazione sul sito. I due primi si lavorano sul sito. Poi abbiamo la popolarità, cioè un po' l'acqua, il concime che farà crescere più rapidamente l'albero e farlo salire nei risultati di Google. Ecco, l'SEO si basa su tre pilastri, struttura, contenuti e popolarità. E noi adesso affronteremo i primi due pilastri, cioè contenuti e popolarità. Dunque, l'obiettivo dei contenuti è di mettere in risalto, rendere visibili i prodotti e servizi ai clienti, migliorare quindi la visibilità e il traffico su Google, cioè avere un maggior numero di visite su Google e più contatti qualificati sul proprio sito per sviluppare la propria notorietà. Per convincere e per vendere come obiettivo finale. Ebbene, innanzitutto dovete definire chi è il vostro interlocutore, a chi parlate a seconda del tipo di prodotto che si vende. Cambierà anche la tipologia di persona, dovete definire l'ambiente, situazione familiare, reddito, situazione professionale, valori, impegno, esigenze, obiettivi di consumo, realtà geografica, interessi, personalità e le motivazioni d'acquisto. E una volta ottenute tutte queste informazioni, create la vostra persona, fra virgolette, il cliente tipo e lavorerete per lui. Se per esempio io vendo prodotti per la terza età, mi adatterò nella comunicazione, per esempio darò del lei, cercherò di avere un'immagine più ariosa, invece con i giovani gli darò del tu, cercherò di avere uno stile più dinamico. Quindi dovete avere un target ben preciso, poi dovete raccontare la vostra storia, dovete farvi conoscere, dovete umanizzare il rapporto con il pubblico. Dovete definire già chi siete voi, poi il vostro posizionamento e successivamente anche i vostri punti forti rispetto alla concorrenza. E questo essendo sempre vigili anche su quello che sta facendo la concorrenza, su come la concorrenza riesce a essere visibile. Io racconto sempre la stessa storia, dico ecco arrivo in un punto vendita che vuole lanciarsi un po' nell'e-commerce, se noi non riusciamo a definire bene chi vi sarà dietro lo schermo, qual è il target di cliente, ebbene non riusciamo a umanizzare la relazione, io ho bisogno di calore umano. Poi dobbiamo scegliere delle parole chiave e questa è la fase più importante, su questo comincerà la vostra strategia di search engine optimization. Qui abbiamo un sistema chiamato Ocean Wash, qui abbiamo una foto dello schermo, abbiamo Keyword Magic Tool e abbiamo tutte le richieste che sono state realizzate e che integrano le parole chiave. Quindi io prendo le parole chiave, metterò il mio prodotto e poi vedrò tutte le richieste che sono state realizzate dagli utenti di internet per trovare quel prodotto. Quindi vediamo quali sono le parole chiave associate al prodotto. Allora non so se lo vedete in modo chiaro, comunque ho preso un esempio, come un esempio uno shampoo bio, ecco qui ho uno shampoo bio solido, per esempio un prodotto che è associato allo shampoo bio ma che è solido. Poi migliore shampoo bio invece, ebbene rispetto a questa richiesta ci sono molte persone che cercheranno migliore shampoo bio, però noi vogliamo fare un'analisi comparativa e vedere anche i concorrenti. Quindi lo scopo è quello di rispondere alle intenzioni di ricerca, cioè l'utilizzatore di internet cosa fa per cercare il mio prodotto. Poi il secondo metodo consiste nell'analisi della concorrenza. Deve dire che alcuni concorrenti sono posizionati sulle stesse parole chiave di voi e quindi potete usare uno strumento che vi permette di vedere nel dettaglio come vengono nella classifica dei risultati, come sono posizionati. Magari vi rendete conto che hanno alcune parole chiave che gli garantiscono una maggiore visibilità a parole che voi non avete e quindi dovete cercare di capire come avvicinarvi poi a questo tipo di richiesta, una richiesta che i vostri concorrenti riescono a soddisfare e quindi cercherò anche io di attribuire quelle parole chiave a una pagina. Allora dobbiamo trovare le parole chiave che permetteranno poi di avere dei risultati, cioè lo scopo è quello di avere delle parole chiave che corrispondano poi ai prodotti che avete nel catalogo. Bisogna sapere innanzitutto porsi le buone domande, ossia queste parole chiave faranno aumentare il business, ve ne sono che lo fanno più di altre. Una volta definite queste parole chiave avete due possibilità, o associate le parole a una pagina già esistente che è molto vicina poi alla richiesta, a questo punto vado sulla pagina e cambio contenuti, magari sistema di titoli per cercare di conformarmi a questo tipo di richiesta, oppure non ho una pagina corrispondente, ne creo un'altra, può essere una scheda di prodotto, un articolo di blog e cercherò di avere come target questo tipo di richiesta. Una ricerca ben mirata uguale una pagina web uguale un contenuto ottimizzato, quindi cerchiamo di avere una pagina per richiesta mirata. Il nostro scopo è quello di avere i contenuti più completi possibile, magari utilizzare anche un sistema redazionale che abbia un'ottimizzazione semantica per rispondere al campo lessicale più ampio possibile. Ecco, questo è uno strumento che si chiama Your Text Guru, ecco qui ho fatto una richiesta, per esempio la richiesta sono scarpe di cuoio nero e avete tutte le parole associate a questa richiesta. Per Google, quanto più utilizzo le parole chiave presenti su questa scheda, quanto meglio sarò posizionato nella classifica dei risultati sulla richiesta scarpe cuoio nero, perché non è più come in passato, c'era il titolo, il risunto, la descrizione, le foto di dascalie, poi si ripeteva in continuazione scarpe cuoio nero, scarpe cuoio nero, no, è finito. Adesso si parla di campo lessicale, è un concetto molto più pertinente, cioè si danno a Google delle parole chiave che sono associate comunque al conto principale. E quindi in questo modo è possibile avere un indexing molto migliore rispetto al passato. Allora, anche qui invece, ecco, vediamo qui ho la lunghezza dei contenuti in funzione della tipologia di pagine di contenuti. Ebbene, quello che permette di avere un indexing migliore sono gli articoli di blog, però certo, posizionarsi su parole chiave grazie a articoli di blog, beh, non sono pagine prodotte, quindi dobbiamo utilizzare gli articoli di blog, però gli articoli devono rendere visibile immediatamente il prodotto affinché il vostro cliente sia spinto all'acquisto. Quindi siamo fra i 800 e i 2000 parole perché un articolo di blog sia efficace. Poi abbiamo delle schede di prestazione di servizi, landing page e qui abbiamo fra i 1000 e i 2500 parole e poi le schede di prodotto, anche se interessanti, tra i 300 e i 300 parole. Molto spesso gli operatori commerciali dicono ma come faccio 300 parole su delle viti di bronzo? Ecco, però noi diciamo che dobbiamo dare a Google, dobbiamo nutrirlo di contenuti pertinenti, quindi 300 parole è il minimo da dar da mangiare a Google, diciamo. Se invece c'è di cui scrivere si può arrivare fino a 800 parole. Attenzione, se distribuite prodotti che sono molto venduti sul web evitate di fare copia e incolla con testi della concorrenza dei fornitori, cercate di avere dei contenuti che siano unici, che siano vostri sul web perché altrimenti non riuscirete a posizionarvi, perché spesso capita che gli operatori commerciali non vogliono perdere tempo a scrivere contenuti e poi non hanno risultati. Poi abbiamo una guida, una guida con analisi comparativa. Poi abbiamo le pagine di categoria che sono spesso trascurate ma sono delle landing page incredibili, possiamo integrarle nei testi, in alto, sopra le schede di prodotto o di sotto dei prodotti e permettono di posizionarci su una tipologia o su una famiglia di prodotti. Le pagine e categorie per esempio possono durare nel tempo, ecco i prodotti variano in funzione delle scorte, delle versioni, dei modelli, invece le pagine e categorie restano e le manterrete per lungo tempo, quindi concentratevi su queste pagine, investite. Poi la home page, spesso trascurata però è la più importante perché riguarda la search engine optimization perché è la parte fondamentale del sito e quella su cui si arriva immediatamente. Se non vi è un contenuto adatto nella home page, ebbene vi sarà un minore impatto rispetto al fatto di avere parole con contenuti più efficaci. Poi abbiamo i casi clienti, il feedback, anche questo non esitate a introdurre questi contenuti e poi le interviste ovviamente, con trascrizione magari. Allora, la lunghezza dei contenuti, ebbene abbiamo contenuti corti, contenuti lunghi. Ci sono vari vantaggi inconvenienti rispetto ai contenuti corti e lunghi. Per i corti i vantaggi sono più semplici da leggere, richiedono poca attenzione da parte dell'udienza e permettono anche a quelli che vengono a leggere velocemente, di consumare velocemente il vostro contenuto. Lo svantaggio è difficile di toccare un argomento approfondito se il contenuto è corto, e poi si può diventare informali, questo può bloccare un po' il pubblico. I contenuti lunghi, loro hanno il vantaggio di avere più parole posizionate, più si dà da mangiare a Google e più parole si posizioneranno. Dunque si sarà classificati più alti sui motori di ricerca con contenuti alti. e poi c'è una maggiore expertise trasmessa. I contenuti lunghi sono maggiormente generatori di backing. I backing sono importanti per l'SO. Gli svantaggi è che richiederà un tempo di attenzione maggiore. Dunque io leggo spesso velocemente e dunque mi fermo spesso sui titoli per andare a cercare la sessione che mi interessa maggiormente o per vedere se non c'è un sommario. Dunque se avete articoli lunghi strutturateli perché così se una persona cerca un passaggio preciso che possa andarlo a trovare velocemente perché richiede una capacità di attenzione maggiore. e poi contenuti corti o lunghi lo scopo è di rispondere all'intenzione di ricerca del pubblico. Una certa tipologia di contenuti dovrà essere corta a seconda di quello che si sta cercando e altri dovranno essere lunghi. Dunque non è che bisogna sempre combinare tutti e due. Bisogna rispondere all'intenzione di ricerca dell'utilizzatore internet. Come ve l'ho detto più un articolo è lungo e più è generatore di backlinks. I backlinks sono i links di feedback dunque è importante per il vostro posizionamento. Dunque più ci sono parole e più genereranno dei link e questo è ottimo per le SEO. Dunque vediamo qua che tra mille e duemila parole è ottimo per ottenere delle condivisioni socials. E dunque le condivisioni socials Google vede, è un ottimo segnale, Google vede l'ecosistema che c'è attorno ai socials e che in relazione con il vostro sito dunque è importante per voi vedere che ci sono dei links che arrivano dalle condivisioni dei socials. La duplicazione del contenuto è proprio una criticità. Ho parlato di schede prodotti. Si può avere della duplicazione interna e esterna. Dunque interno se avete dei prodotti troppo vicini, dunque che hanno un contenuto troppo legato. Poi ci possono essere delle categorie anche troppo simili. Bisogna utilizzare la navigazione a facette. C'è Advanced Edge 4, è proprio il modulo che io utilizzo e permette di limitare il numero di categorie lasciando però un'unità pertinente al cliente perché possa trovare il prodotto che va a cercare sul sito. Dunque io sono alto due metri e ho delle scarpe del 48. Io vado su starenza.com, vado a scegliere le scarpe del 48, vado nell'universo uomo e ho tutte le scarpe disponibili in 48 che appaiono. Dunque non apro tutte le schede prodotto per trovare delle scarpe alla mia misura. Dunque questo permette di evitare di avere delle categorie troppo simili e di ottimizzare la navigazione sul sito. In esterno è tutto quello che riguarda i plagi. Avete scritto la super scheda prodotti che è super chiara. Per presentare un nuovo prodotto ovviamente il concorrente non si creerà problemi, viene a copiare la vostra scheda prodotti. Dunque ci sarà una duplicazione di contenuto. E poi ci sono anche le marketplace. Se vendete sulle marketplace dovete assolutamente proporre un contenuto diverso del contenuto che avete sul vostro sito. Se proponete lo stesso contenuto sulle marketplace, si svendrete il vostro prodotto su eBay o Amazon. Loro hanno un'autorità molto forte, dunque recuperano loro la paternità della scheda prodotto e siete voi che perdete della visibilità perché loro avranno la paternità. Dunque dovete assolutamente fare la differenza dei contenuti sul vostro sito e su quelli che sono sugli altri siti. E poi anche state attenti all'URL del sito. Spesso ci sono delle criticità con l'HTA Access, con anche il W. Dunque dovete scegliere una di queste quattro possibilità e le tre altre devono dirigervi automaticamente sull'indirizzo corretto. L'ultimo punto sono le pagine dormienti, quelle che degraderanno il vostro sito. Oggi Google guarda la globalità del vostro sito. Se avete delle pagine di pessima qualità, queste pagine penalizzeranno il vostro sito. dovete assolutamente lavorare ed ottimizzare tutte le vostre pagine e non lasciare delle pagine a parte. Queste pagine spesso non sono ottimizzate in termini di SEO, non hanno contenuto, non hanno link e sono un po' a parte, a margine. Dunque dovete guardare in Google Analytics che elencherà le pagine che non generano traffico. Potete anche guardare quale pagina non si posiziona. Avete degli strumenti SEO che vi permettono di vedere quali sono le pagine posizionate e quelle non posizionate. Poi c'è un altro strumento che è MyRankingMetrics che permette di identificare le pagine, le chiamano le pagine zombie e dunque viene ad elencare tutte le pagine che hanno delle criticità sul vostro sito. Ci sono varie possibilità con queste pagine. Innanzitutto si cerca di ottimizzarle, arricchire il contenuto, la collegare con una pagina maggiormente visibile sul sito, dunque bisogna riavvicinarla e poi se non si può allora si sopprime questa pagina o la si fusiona con un'altra. Ora passiamo alla seconda ottimizzazione e la popolarità. La popolarità è collegata con Google e AT, Expertise Authority Trust. Dunque sono tre criteri determinati da Google per creare la pertinenza di un sito rispetto a un ecosistema. E per Expertise dovete dunque essere affittabili, dovete essere un esperto nel vostro campo. Authority dovete ricevere dei link da parte di siti influenti e di maggiore autorità. E Trust è tutto quello che riguarda, che va a rassicurare i vostri visitatori dovete essere degni di fiducia. L'algoritmo è arrivato due o tre anni fa e ha cambiato molte cose. Oggi Google non guarda solo il vostro sito. Prima era proprio l'ottimizzazione in boutique che aveva maggiormente i maggiori punti. Ora Google guarda tutto quello che circonda il vostro sito per capire se siete importanti o meno. Dunque l'Expertise arriva con la qualità del vostro contenuto. Dovete creare dei contenuti che piaceranno a Google ma anche ai vostri visitatori. Bisogna prendere in considerazione l'intenzione di ricerca prima di scrivere. Cosa cercherà il mio cliente ideale e quale risposta sta aspettando. E così potrete strutturare i vostri contenuti, mettere in evidenza certi elementi importanti. Potete utilizzare del grassetto, dell'elenco puntato. E così ritroverete le vostre pagine posizionate in posizione 0. Sono posizioni al di sopra delle posizioni naturali, la posizione 1. Dunque, come migliorare la propria autorità? L'autorità dipende del profilo dei link. Qua vi ho fatto un piccolo schema per rappresentare. Dunque, in blu avete il vostro sito internet con la home page in centro e poi attorno si ricevono dei link, dei link verso la home page. Però si possono ricevere anche dei link verso una pagina categoria, verso un prodotto, perché si è su un forum o perché si parla di un prodotto e si fa un link verso questo prodotto. Dunque, i link vengono a trasmettere del succo, diciamo, del succo che recupererete nel vostro sito internet. e questo spingerà la pagina che riceve il link. Dunque, c'è una nozione anche di malia interna e quello che bisogna evitare sul vostro sito e-commercio sono i mega menu che sono dei grossi menu con tutti i link aperti. Dunque, questo viene a diluire il succo che ricevete e bisogna limitare assolutamente questi link sulle varie pagine per mandare questo succo. Bisogna farlo circolare verso le pagine di maggiore importanza. Dunque, quella che riceve maggior succo è la home page e lei deve poi mandare del succo verso le pagine importanti. Quali sono le pagine e le categorie da privilegiare, quali sono i prodotti da privilegiare. Dunque, bisognerà venire a spingere queste pagine perché ricevano maggior succo e che siano arricchite. dunque, l'ultimo punto collegato all'EAT come migliorare la propria credibilità. Dunque, innanzitutto si parla di prova sociale che viene a rassicurare i vostri utenti. Sono i pareri clienti, le testimonianze video, il logo dei media che parlano della vostra attività. Potete mettere il logo di qualcosa che avete visto e potete anche mostrare i vostri dati chiavi legati alla vostra attività e questa credibilità vi aiuterà a lavorare la vostra autorità perché quando comprate dei link su grossi media c'è il lato SEO, ricevo del link però c'è anche il lato branding, credibilità, il fatto che un media parli di me e che io lo utilizzi va a rassicurare il mio pubblico e aumenta il tasso di convertimento. perché le strategie di link sono così importanti? Perché daranno più autorità allo nostro sito web e questo è un algoritmo che è nuovo per Google e che è importante. Un sito oggi che non viene mai citato, che non fa parlare di se stesso avrà delle difficoltà ad essere posizionato e poi bisogna anche migliorare le posizioni delle vostre parole chiavi. La strategia di link va a spingere le vostre parole chiavi che sono importanti in termini di business. Bisogna definire le parole chiavi che genereranno maggiormente fatturato per voi dove avete più margini che sono semplici da consegnare eccetera. Dunque si spingono queste parole chiavi attraverso la strategia. E poi c'è anche la globalità delle parole chiavi del sito e questo ovviamente avete la possibilità di far risalire delle parole chiavi importanti però comunque segue poi tutto il sito e poi fare del link e anche migliorare il vostro branding come l'abbiamo detto quando c'è una testimonianza da un grosso media ovviamente va a rassicurare i vostri utenti e rassicurare la vostra conversione. tutti i link non sono identici spesso si parla di backlink tutti i link non sono identici un link funziona come una raccomandazione se una persona rispettabile è influente nel vostro settore di attività se parla di voi ovviamente dà un'ottima immagine se invece siete citati da qualcuno che è poco raccomandabile e che ha una brutta fama ovviamente poi è la vostra reputazione che ne soffrirà dunque tutti i link non sono identici bisogna avere pochi link alcuni link però qualitativi a partire da siti influenti e soprattutto quello che bisogna assolutamente sono troppo veloce bisogna assolutamente avere dei link che siano nella stessa tematica rispetto a voi se vendete delle scarpe dovete avere dei link su siti di moda su vari siti che hanno un collegamento con la vostra tematica o comunque che siano connessi ad esempio se vendo accessori di piscina posso fare dei link con dei siti che parlando di giardino di svago dunque per essere per prendere nessun rischio ed essere puliti bisogna appoggiarsi su siti di qualità mescolando i partner non bisogna appoggiarsi su reti di siti se un proprietario ha più siti non si va a prendere dei link sui 30 siti dello stesso proprietario perché Google va ad identificare che questi siti appartengono hanno lo stesso proprietario dunque bisogna evitare questa cosa si prendono siti di tipologia diversa e si va a mescolare qualcuno che compra 30 link mettiamo 30 link su 30 partner diversi dunque bisogna fare una redazione di qualità si privilegia l'intenzione di ricerca se un cliente a cui attività ha un collegamento con la piscina vado a cercare cosa un cliente potrebbe ricercare e vado a posizionare il sito proprio in quel campo oggi si può fare un po' tutto quello che si vuole con le strategie di link però bisogna capire che Google non ha tutte le risorse per identificare quello che è fatto dunque bisogna capire che un sito posizionato naturalmente non deve essere sovraottimizzato se vendo dei robot per una piscina evito di mettere sempre i robot piscina ovviamente funziona e il sito salirà velocemente ma velocemente Google lo identificherà e lo penalizzerà dunque bisogna rimanere naturali e bisogna stare attenti agli ancoraggi dei link dunque questi sono i testi che sono negli articoli dove c'è un link associato e si va a cliccare sopra e bisogna farli variare al massimo e il net linking è un lavoro di lunga durata bisogna far salire il sito piano piano bisogna guadagnare in fiducia e in credibilità e bisogna anche anticipare tutti gli aggiornamenti di Google Google oggi ha una certa soglia di tolleranza e questa varia sarà ristretta con gli anni ma il fatto di rimanere naturali e riproducendo quello che si ha l'abitudine di vedere quello che Google ha l'abitudine di vedere non si prende nessun rischio per il proprio sito l'ultimo punto sono le pagini con l'errore 404 per quelli che hanno delle boutique prestashop l'errore 404 è un pessimo segnale questo è proprio un pessimo segnale perdete invisibilità della pagina quando sopprimete se cancellate un prodotto dovete automaticamente ridirigerlo verso 301 avete due possibilità 301 ridirezione permanente lo dirigo verso una pagina permanente e non cambierà più e 302 è una pagina temporanea 302 non si utilizza perché se il prodotto non è più in stock non si può ordinare dunque un prodotto che non è più disponibile e che non esisterà più lo metto automaticamente lo ridirigo in 301 verso un prodotto equivalente o verso una pagina categoria in seconda scelta che sarà una pagina categoria madre del prodotto oppure se non ho più prodotti simili o pagine categorie se non ho più questo lo ridirigo verso la pagina e la home page ecco io avrei finito grazie per la vostra attenzione se avete delle domande sono qua a vostra disposizione per rispondere non vi vedo se avete delle domande alzate la mano possono essere domande sui contenuti o rispetto alle strategie del link sì c'è una domanda allora la domanda ecco è bene sui contenuti rispetto al rischio di plagio bene ci sono degli strumenti specifici che vi permettono di individuare quali contenuti del vostro sito sono stato oggetto di plagio lo vedete su google perché c'è l'indexing se le frasi sono identiche ecco ovviamente però per vederlo comunque abbiamo una serie di strumenti e quando vediamo dei casi di plagio quando li scopriamo a quel punto cosa facciamo contattiamo l'operatore di e-commerce che ha copiato la mia scheda prodotto chiediamo di ritirare quei contenuti perché altrimenti possiamo fare causa se non risponde si fa inviare una lettera dal proprio avvocato oppure contattare l'host e spiegare che il suo cliente sta duplicando illegalmente i contenuti che sono di vostra proprietà e a quel punto l'host eliminerà quella pagina oppure su google potete fare delle richieste tmca potete chiedere a google di eliminare dal sistema di indexing quella pagina utilizzata indebitamente dal concorrente si può anche semplicemente all'inizio inviare un email spiegare a quell'operatore che sta plaggiando dei contenuti di vostra proprietà intellettuale che è tenuto a ritirare automaticamente quella pagina solitamente lo fanno automaticamente poi cercare di fare uno spin sui contenuti beh lo spin significa che creerete un master che propone una declinazione del testo con termini vicini però non potete comunque riscrivere fare questo spinning ogni volta sarebbe un lavoro assurdo in mane meglio proteggersi tutelarsi quindi e andare a contattare direttamente chi sta plaggiando i vostri contenuti un'altra domanda allora la domanda è la seguente se io ho una scheda prodotto e poi faccio una copia e colla su My Business no ma diciamo che voi dovete avere dei contenuti unici se poi siete presenti su vari marketplace anche su My Business potete comunque utilizzare gli stessi contenuti sono persone che poi utilizzano Amazon IP c'è chi utilizza contenuti diversi però voi dovete dare molto amore ai contenuti che pubblicate sul vostro sito che sono i più importanti per voi invece per i marketplace e altro ecco magari proponete un contenuto leggermente diverso e in cui magari non vi concentrerete altrettanto solo per alimentare le schede prodotto su altri siti ci sono altre domande volete andare a bere l'aperitivo ecco ebbene vi ringrazio per l'attenzione se avete domande anche più avanti successivamente non esitate a contattarmi grazie